buongiorno a tutti oggi siamo a montagnola per visionare questo 3 e mezzo locali siamo al piano terra di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento veniamo accolti da questo disimpegno subito a sinistra possiamo notare questo armadio muro già installato sulla parte destra si sviluppa tutta la zona giorno che vedremo in seguito mentre sulla parte sinistra grazie a questo corridoio possiamo accedere alla zona notte proseguendo alla nostra destra abbiamo una prima stanza in questo caso è stata dita ad uso ufficio continuiamo rimaniamo sempre sul lato destro ed ecco che abbiamo una seconda camera vedete sono ambienti veramente spaziosi e molto luminosi in fondo al corridoio abbiamo il bagno un bagno con una grande vasca una jacuzzi pc la lavabo specchiera ritornando nel disimpegno d'ingresso possiamo visionare l'area del soggiorno che si trova alla destra dell'ingresso vedete uno spazio molto grande ben illuminato che dà la possibilità attraverso questa porta di accedere ad una parte esterna che vedremo in seguito frontalmente all'ingresso un secondo bagno un bagno di servizio composto di specchiera lavabo e lavastotitico ecco che attraverso questa porta finestra possiamo accedere a questo il possiamo anche accedere ad un grande giardino che circonda tutto l'appartamento come possiamo notare e se vi è piaciuta questa soluzione e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto